Sittin in Piazza Martiri a Teramo da parte dei sindacati di FIOMCGL, FIMCISL e WILMWIL per dire no ai contratti gialli, tipologia che sta prendendo piedi in alcune aziende del territorio provinciale terramano. Contratti senza alcuna tutela a differenza di quelli nazionali sottoscritti tra Confindustria e le sigle sindacali nazionali di categoria. L'obiettivo del sit-in è quello di convincere i lavoratori a rivolgersi ai veri sindacati di categoria per tutelarsi e non accettare queste tipologie di contratto. Purtroppo abbiamo scoperto che ci sono alcune aziende che applicano questi contratti gialli, che sono contratti di fatto depositati al CNEL ma che non sono sottoscritti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e dalla controparte, in questo caso Confindustria. Ciò significa svincolarsi da quegli accordi che si fanno su quel contratto e svincolarsi poi da tutti gli accordi che si fanno sui tavoli. Anche quello che c'è stato questa notte per quanto riguarda la tutela dei lavoratori dal primo di luglio, dove Ministro e Parti Sociali e Confindustria si sono accordati sull'utilizzo di tutta l'ammortizzatore sociale, quindi della cassa integrazione prima dell'eventuale avvio dei licenziamenti. È chiaro che se ci svincoliamo da quegli accordi, da quei tavoli, ci svincoliamo anche da tutte quelle tutele. La volontà di alcune aziende dove non sono presenti le organizzazioni maggiormente rappresentative, nonché Fiamma e Wilma nel settore metalmeccanico, c'è una spinta all'applicazione di un contratto diverso, non sottoscritto neanche dall'associazione di datoriali, che pone in serio pericolo i diritti dei lavoratori, il salario, in particolare welfare, in un momento di applicazione del rinnovo del contratto dei metalmeccanici a livello nazionale. Stanno cercando in tutti i modi di sminuire il contratto nazionale dei metalmeccanici. Già stavano atticchendo prima in altri settori, adesso ci stanno provando anche nel metalmeccanico. Noi non possiamo permettere questa cosa, siamo qui oggi in piazza per denunciarla questa cosa. Saremo oggi davanti a quell'azienda che sta cercando di bypassare i diritti dei lavoratori, anche minacciandoli a volte di licenziamenti, perché ricordiamo che a cavallo dello sblocco dei licenziamenti si stanno inventando la crisi per fare questi contratti a ribasso e guadagnarci solo loro. E noi non possiamo permettere questa cosa. Quindi noi andremo avanti, torneremo davanti a questa azienda, come ho detto prima, e cercheremo in tutti i modi di stare vicino a questi lavoratori e di fargli prendere coraggio. L'appello è accurato, non cadete in questa trappola, altrimenti è un tunnel senza ritorno.